Musica Salve a tutti ragazzi Sono Chianicomarch e questo è un nuovo video sul canale di Showguanto italiano e come potete vedere Siamo tornati su Watch Dogs E allora vediamo un attimo Dove devo andare per la missione Grazie della dritta Come vi Ricorderete nell'ultimo video ho fatto Le missioni secondarie Mi sa che devo scendere giù dove stavo scendendo No era qui Ho fatto le missioni secondarie E ovviamente il video è venuto molto breve Mentre adesso continueremo a fare La campagna E magari faremo anche qualche missione secondaria Dipende un po' dalla durata del video dopo Però cercherò di farli durare comunque intorno ai 15 minuti Al solito Anche se i precedenti sono venuti un po' sfasati come video Quindi Che c'è da dire? Sì La missione era quella di trovare da dove aveva chiamato Maurice Mi pare Se non erro E quindi La nostra amica Bad Boy Ci ha detto che lo potrà rintracciare E l'ha rintracciato qui Grazie della dritta Vediamo un attimo Sì probabilmente lui ha voluto farsi trovare Questo è quello che abbiamo intuito Insomma Raggiunge la sorgente del segnale E la chiamata misteriosa Lì Ma devo salirci fisicamente a piedi mi sa Mi dà idea che ci sarà una sparatoria qua dopo Molto d'idea che ci sarà una sparatoria Con 2000 esplosioni Copri cavi Allora Intanto io direi che alziamo questo qui E anche quello Ho già capito che qua andrà male Trova e attiva i nodi del CTOS Allora Di là Di là No qui ci sarà una guerriglia spaventosa Si vede già Scusate per la tosse Fino a lì Qua c'è uno Slenderman O almeno sembra molto simile No di attivare di 0 su 2 Allora dai scendi velocemente Andiamo È un gran casino Perché siamo saliti fino a qua No aspetta Telecamera Mi sa che ho fatto una cavolata Dovevo scendere con l'ascensore Per poter vedere l'altra telecamera Cioè per poter vedere l'ha Sbloccato Quell'altro nodo Dov'è? Aspetta C'è qualcosa che non mi quadra Uno è andato L'altro dov'è? Ah ah di là Allora Iniziano a essere sempre un po' più complicate Le ricerche Va di qua La vedo Lo vedo proprio Lo vedevo da qua Lo vedevo Ah è un'esplosione quella E I copricavi tutti alzati assolutamente Telecamera Telecamera qui Ce ne sarà una più in alto? Là Ecco Di telecamerina Sblocca Accelera la rete Alzati copricavo Ah no Mi sono riabbassati tutti Vabbè poi li dovrò rialzare Ah no era un altro giù Ok Non si era abbassato A posto Akera Allora Eh è vero E' con cui Non so perché mi viene sempre da cliccare Ok Così 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 Sblocca Così 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 No eh Ah così A posto Sbloccato What the hell is this Bellwether Esamino l'apportamento Ho sofferto anche io Cazzo E' palese che ci stava aspettando E' palese che ci stava aspettando Non ci stava aspettando Ma siamo a interrompere Ma siamo a essere interrompiti Come trovi Mi Vediamo Sblocco E' sicuro Ma quando hai Occhè Sblocco Porca miseria, quanti cazzo sono. Allora, vediamo se c'ho una bomba. Bene, così. E due se ne sono andati. Allora, c'è uno. Come faccio a eliminarli questi? Sono troppi, troppi. Uh, là c'è un'esplosione. Ciao. Esplosione, ciao. E due li abbiamo fatti fuori. Esplosione, ciao. Vai lì, avvicinati. Ciao. Mi è piaciuto. Esplosione pure quello, quello può esplodere da solo. Come sono all'inseguimento? Come sono riuscito a scappare? Black out. Mi hanno visto, cazzo. Allora, devo capire come scappare adesso. Molto. Colpo in testa. Mettiamo un'arma un po' più seria. Tira fuori la testolina. Dai. Colpo in testa. E dove stanno gli altri due adesso? Qua? Morto. Ok. Ok, questa missione è venuta abbastanza lunga. Direi che posso iniziare a concluderla. Quindi concludo mentre mi avvicino lì al punto. Se lo so che verranno un po' brevi le missioni, magari voi vorreste vedere di più del gioco. Però sinceramente mi è veramente difficilissimo caricare i video. Come vedete gli ultimi sono anche di 25 minuti. È un casino per me caricarli. Quindi, magari i prossimi li faranno un po' più lunghi. Però alcuni devo farli brevi per forza per darmi tempo di caricarli. Cioè, ci metto veramente 24 ore a caricarli e registrarli molto di meno. Quindi è un casino. E vorrei portarli il più possibile sul canale. Almeno una volta ogni due giorni vorrei metterne uno. Quindi, io spero che i video vi stiano continuando a piacere. Lo so che lo dico 3000 volte, ma è vero e non so come concludere i video in un altro modo. Fatemi sapere sempre cosa ne pensate nei commenti. Come si può migliorare. Se volete che magari taglio alcune parti e li faccio più lunghi. Qualsiasi consiglio veramente mi fa piacere. Perché vorrei sapere voi cosa volete vedere. Cioè, io mi diverto a giocarlo in ogni modo. Poi il montaggio, se ci devo mettere un po' di più per farlo venire meglio, il video non ci metto veramente niente e mi fa piacere. Quindi, io spero che il video vi sia piaciuto di nuovo, lo ripeto. E ci vediamo a un prossimo video. Bene ragazzi, ciao!